ritrovati amici di romaggiororossa.it allora parliamo di calciomercato l'ultima novità di questa domenica di 30 luglio 2023 è chiaro che siamo tutti in attesa è chiaro che siamo tutti in attesa che arrivi Renato Sanchez e che arrivi Gianluca Scamac e volevo in questo video fare un po' di chiarezza perché perché più di qualcuno mi chiede magari anche su Facebook o su Twitter perché abbiamo scritto proprio entro luglio arriverà Renato Sanchez oppure entro luglio quindi entro domani praticamente la Roma farà il comunicato ufficiale che avrà acquistato Renato Sanchez allora noi abbiamo scritto il 25 luglio per chi se lo fosse dimenticato lo ribadiamo ancora una volta che c'è l'accordo totale tra Roma e Paris Saint Germain per Renato Sanchez in che modo? Prestito con diritto di riscatto prestito oneroso a 2-3 milioni e diritto di riscatto a 13-14 per un totale di almeno 16-18 milioni lo rispiega ancora una volta cosa significa questi 18 milioni cioè prestito oneroso e diritto di riscatto vuol dire semplicemente questo che tra i 15 e i 18 diciamo che la parte variabile dipende poi effettivamente se viene inserita la clausola delle presenze cioè che vuol dire se viene inserita una clausola che tu poi questo diritto si può trasformare quasi in un obbligo di riscatto al verificarsi di tot presenza che ne so possono essere 25-30-40-50% delle presenze chiaramente la Roma poi sarà obbligata a riscatterlo quindi magari se inseriscono le presenze il totale tra prestito oneroso e diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo è di meno 15 quindi totale di 15 se non verrà ammesso questa clausola delle presenze sarà chiaramente più alto il prezzo quindi tra prestito oneroso e diritto di riscatto semplice sarà 18 quindi tutto qua primo aspetto da chiarire secondo aspetto da chiarire siccome c'è l'accordo totale ormai sia col Presidente Germain almeno sulla formula e devono sistemare questo aspetto della clausola e sulle cifre sono ballerine tra 15 e 18 si sta parlando di 2-3 milioni non si sta parlando di 10 milioni di differenze di 5 milioni di differenze o di 6 milioni di differenze si sta parlando di 2-3 milioni di differenze da dover rimare è chiaro che qualora Tiago Pinto non è che è obbligato Tiago Pinto ad andare a Parigi a trattare col Paris Saint Germain perché il 25 luglio hanno trovato accordo quindi adesso Renato Sanchez si trova in Giappone o prende un aereo e va direttamente in Portogallo ma la vedo difficile o Dan Fritkin va direttamente dal Giappone a Portogallo a fare bulli trans-oceanici e anche di più dal Giappone al Portogallo adesso si trova giusto per dire Fritkin ma la vedo difficile oppure cosa molto più semplice è molto più logica quando il Paris Saint Germain tornerà tra il 31 di luglio e il primo di agosto a Parigi la trattativa poi cioè l'annuncio ci sarà quindi noi abbiamo detto luglio perché a luglio effettivamente c'era già l'accordo c'era già il 25 di luglio poi sarà il 31 primo o due ragazzi siamo anche un po' elastici perché allora uno mi dice ma bene ma domani ci sarà l'annuncio io ho detto entro luglio che ci potrebbe essere comunque non dico l'ufficialità ma la chiusura definitiva di questa operazione qui di queste cioè di sistemare questi dettagli poi probabilmente a metà settimana come abbiamo detto già nei video precedenti il general manager Tiago Pinto andrà direttamente a metà settimana a Londra per portarsi praticamente scamacca con sé questa è la situazione quindi non c'è niente di cui preoccuparsi di cui cioè sono due operazioni definite oggi leggo su un giornale quello dello sport di Morata e molti mi chiedete ma Morata Morata arriva Morata non arriva allora io quello che ho scritto che scritto è quello dello sport è vero nel senso che con una piccola postilla io so rispetto a quello è quello dello sport quello che scrive quello dello sport cioè che scamacca non esclude Morata o meglio il sogno di Morigno sarebbe scamacca più Morata ora se si dovessero vendere i Bagnets e Karlsdorf piccola parentesi come già detto il viaggio dipinto a Londra servirà anche per vendere i Bagnets probabilmente trovare accordi per i Bagnets con Tottenham che si è fatto vivo che aveva già offerto 22 milioni per i Bagnets oppure col Fulham con con l'Aston Villa con il West Ham stesso ripeto sono squadre tutte interessate ai Bagnets oppure qualche squadra sondata per Karlsdorf per trovare un accordo per trovare qualcuno che vogliono questi due giocatori allora poi magari ad agosto inoltrato prima dell'inizio del campionato diciamo tra la prima settimana di agosto e prima della della metà di agosto si potrà fare un tentativo per Morata ma bisogna cedere e devono cedere Pinto deve cedere se Bagnets che Karlsdorf quindi al momento senza come dire queste scelte queste eccezioni di Bagnets e di Karlsdorf alle mani legate non può effettivamente andare a prendersi Morata perché se va a prendere Scamacca e investe tutto su Scamacca è chiaro che non può andare a prendere Morata se prima non vende io avevo sempre detto quelle eccezioni di Reynolds a Westerlo di Shomurodob al Cagliari in presto comunque di Bigliara a Granata di Vigna a Sassuolo sono tutte propedeutiche per liberare spazio salariale ho detto va bene ma per risparmiare qualcosa e poi investire su chi sull'ingaggio e il prestito oneroso di Renato Sanchez e di Scamacca sono tutte propedeutiche a questo tipo di operazioni poi i Bagnets e Karlsdorf propedeutiche all'arrivo eventuale di Morata ma è chiaro che Morigno ha bisogno di una punta per non dico tanto prima della fine del ritiro perché magari ripeto se tra martedì e mercoledì Pinto volerà a Londra per portarsi Scamacca con sé è già finito il ritiro in Portogallo e da Roma ma per lavorare poi per questi 15 giorni con Scamacca e con Renato Sanchez prima della partita con la serenitana di campionato quindi cioè voi dovete io io credo di scrivere italiano io e Maria Paola scriviamo italiano se ripeto non è che dice c'è l'ufficialità di Renato Sanchez il 31 luglio no il 31 luglio c'è l'ufficialità il 31 luglio si sistemano gli ultimi dettagli una trattativa ragazzi io capisco che molti non sanno come funziona la trattativa ma la trattativa è fatta dai vari step c'è la contrattazione della negoziazione c'è poi l'accordo di Massima trovato e che è stato trovato tra Renato Sanchez la Roma e il Paris Saint Germain e la Roma il 25 luglio è vero che come abbiamo detto anche Morigny ha chiamato Renato Sanchez che era un po' lestio a venire da Roma perché lui cercava una squadra che volesse che giocasse la Champions ma poi sono convinto da Morigno a giocare diciamo l'Europa League e a accettare la Roma ma ripeto poi c'è la fase di limare i dettagli ecco si limeranno i dettagli con il Paris Saint Germain quando in questi giorni pinto in Portogallo magari partirà un po' prima un po' dopo per Londra magari la notte perché c'è anche la questione del fuso orario tratta con il Paris Saint Germain e la mattina tratta con il il West Ham cioè ci sono come ho detto tante volte le conference call Skype Teams Meet c'è di tutto per trattare effettivamente quindi questo non deve essere un problema ripeto voi vi fossilizzate sulle parole io mi fossilizzo sui fatti siamo stati i primi a dire di un accordo definito tra la Roma e il West Ham per Scamacca e oggi mi pare che tutti i giornali ieri un sito di calciomercato e oggi tutti i giornali ne parlano siamo stati i primi a dire il 25 di luglio quindi cinque giorni fa di un accordo definito tra Roma e Paris Saint Germain e Roma e Renato Sanchez per Renato Sanchez abbiamo scritto anche che Paris Saint Germain per Renato Sanchez parteciperà a parte dell'ingaggio quindi la Roma pagherà il 60% dell'ingaggio totale dei 6 milioni quindi circa 3 milioni e mezzo 3 milioni e 6 la Roma 2 milioni e 4 2 milioni e mezzo il Paris Saint Germain ripeto il 55 60% la Roma 45 eh 35 40% il Paris Saint Germain l'abbiamo detto io non vedo tutti questi problemi ora voi vi fossilizzate sulle parole io mi fossilizzo sui gli obiettivi gli obiettivi li abbiamo detti le tempistiche li abbiamo detto poi se per un motivo o per l'altro io non sono in Portogallo non sono una testa di pinto ma se per un motivo o per l'altro eh questo benedetto ragazzo si trova in Giappone come caspita fa a venire a Roma e essere annunciato entro luglio è chiaro che l'accordo definitivo eh i dettagli sanno sistemati entro questo mese e poi eh probabilmente si è annunciato prima Renato Sanchez e poi Scamacco addirittura prima un giorno uno e poi il giorno dopo l'altro oppure tutte e due insieme non lo possiamo sapere ma che Scamacca è Renato Sanchez come diciamo da 20 giorni se hanno due giocatori della Roma noi più di scriverlo su Roma Gelo Rossa più di dirlo nei video più di dirlo nei podcast non possiamo fare tutto qua non è una polemica non è niente ma che questa mattina qualcuno sui social su Facebook su Twitter mi dice allora il 31 luglio cioè domani la Roma annuncerà Renato Sanchez ragazzi leggetevi gli articoli guardatevi attentamente i video mi pare di essere stato chiaro nei video ripeto l'annuncio ufficiale non è che magari arriverà domani potrebbe anche arrivare domani mi sembra difficile ma se poi come dire l'annuncio ufficiale invece del 31 arriva il 2 o il 3 agosto per Renato Sanchez o e quelli Scamacca il 4 il 5 il 6 il 7 agosto non dovrebbe essere un problema quando c'è l'accordo di Massima c'è l'accordo di Massima vuol dire che è definita la trattativa che si devono sistemare i dettagli con Wijnaldum è successa la stessa cosa per Wijnaldum l'anno scorso c'è stato l'accordo di Massima 3-4 giorni prima della definizione poi totale dell'accordo perché questo perché Wijnaldum aspettava degli emolumenti che gli doveva dare il Paris Saint Germain quindi sono aspettati 3-4 giorni quando l'accordo era già fatto praticamente da 5 giorni con la Roma e però siccome non doveva perdere i bonus Wijnaldum dal Paris Saint Germain la Roma ha aspettato 4-5 giorni poi per effettivamente dare il via libera annunciarlo ora Renato Sanchez si trova in Giappone o prende un aereo suo personale e si fa un volo e arriva a Roma direttamente va in Portogallo direttamente o arriva a Roma dove lo raggiunge Tiago Pinto oppure non lo so ripeto Renato Sanchez e Scamac come abbiamo detto saranno due giocatori da Roma questo deve interessare l'annuncio le cose ragazzi non è che cambia qualcosa lo dicono tutti i giornali lo diciamo noi da 20 giorni non vi state a fossilizzare sui giorni sui orari le date vi abbiamo dimostrato che mi sembra che siamo affidabili no? quando c'è la radia di Morata l'abbiamo detto quando c'è la radia di Scamac l'abbiamo detto quando sembrava in vantaggio Morata l'abbiamo detto quando è in vantaggio Scamac l'abbiamo detto quindi non è che noi riceviamo delle informazioni e benediamo tutto qua comunque io vi ringrazio vi saluto chiaramente di tutta la partecipazione che ci date scusate il video lungo ma era giusto per specificare un po' la situazione e poi chiaramente aspettiamo gli eventi non ci resta che aspettare ma con molta serenità con la consapevolezza che Sanchez e Scamacca saranno due giocatori della Roma e speriamo che a questi qui si possa aggiungere magari con il tempo anche Morata oppure come abbiamo già scritto non oggi ma un mese fa un giocatore che potrebbe essere Dubanzapata o alla Dubanzapata perché Morigno vuole almeno due attaccanti quindi la situazione di attaccanti non finisce di certo qui un saluto a tutti di attaccanti